La battaglia comincia! Raggruppatevi! Catturare l'area indicata! Nessun problema! Catturare l'area indicata! La squadra nemica ha catturato l'area! Delivolo nemico in arrivo! Nave decica annientata! Abbiamo colpito il nemico! Delivolo nemico in arrivo! Delivolo nemico in arrivo! Delivolo nemico in arrivo! Catturare l'area indicata! Delivolo nemico in arrivo! Delivolo nemico in arrivo! Delivolo nemico in arrivo! Bersaglio colpito! Abbiamo colpito il nemico! Nave nemica distrutta! Siluri nemici avvistati! Bel colpo! Bersaglio colpito! Abbiamo colpito il nemico! Ottimo lavoro! La situazione è sotto controllo Bel colpo Versaglio colpito Bel colpo Abbiamo colpito il nemico Siluri Versaglio colpito Versaglio colpito Abbiamo distrutto una nave nemica La nostra squadra ha catturato l'area La squadra nemica sta per vincere Abbiamo colpito il nemico Bel colpo Versaglio colpito Belivolo nemico in arrivo Contraera in massima allerta Siluri nemici avvistati Belivolo nemico in arrivo Abbiamo colpito il nemico Grazie a tutti Grazie a tutti.